Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo video corso dedicato ad una ottima risorsa che non ha neppure bisogno di essere installata perché è web based, cioè funziona tramite un comune browser programma di navigazione e che serve per creare accattivanti mappe mentali, mind maps. Vi parlo di gitmind, sito di riferimento gitmind.com. Questa risorsa free che è stata segnalata anche dall'amico Albano Battistella, che è il curatore della pagina di divulgazione tecnologico-didattica su Facebook Zorin OS Education Italia, è molto interessante perché mi chiede sì di accedere con un account, cioè con un indirizzo email, ma è totalmente free e estremamente semplice nella composizione e poi nella esportazione. Come faccio ad iniziare? Vado a cliccare sul bottone arancione a sinistra, get started. Ed ecco che mi trovo, anche già da ospite, a visionare una serie di modelli che mi danno l'idea di cosa potrò costruire. Ho a disposizione sia mappe mentali mind map che diagrammi flow chart. Ecco, se io clicco su new mind map, qui mi viene chiesto di autenticarmi ed io, ormai lo sapete, clicco su sign in with google ad esempio. Potrei anche cliccare su sign in with email, lo ricordo, usando una email di terza parte. A questo punto sul mio browser google chrome c'era memorizzato uno dei miei account ad esempio della google suite e quindi io sono immediatamente all'interno del servizio. Creiamo una piccola mappa multimediale perché posso anche utilizzare immagini e links sul cubismo. Ecco, vi segnalo intanto qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea un altro video corso tematico sulle mappe che è quello su Coggle, scritto Coggle. Dai, cominciamo. Clicco su new mind map ed eccomi a costruire la mia mappa. Se voglio dare anche una veste estetica gradevole alla mappa stessa, nella barra degli strumenti in colonna a sinistra clicco su theme e posso cliccare su uno di questi modelli estetici di partenza quantomeno che mi danno l'idea di che cosa andrò a fare. Dai, prendo questo con i colori pastello. Comprimo poi questo menu facendo un click sulla freccina che state osservando a schermo. Oppure ancora posso cliccare su background sfondo il pulsante sotto quindi non vi preoccupate per l'inglese perché commento anche tutti i menu ed abbiamo sia colori pastello solidi che template cioè modelli quindi temi ad esempio carino questo con le matite oppure colori sfumati quelli che lui chiama gradienti. Di nuovo clic sulla freccia per comprimere. Guardate come semplice comporre la mappa. Nodo centrale dunque eccolo qui main theme. Due clic e ho la possibilità di digitare direttamente nella casella di testo. Cancello con il tasto gomma backspace sopra l'invio e digito il cubismo. Un clic a vuoto al di fuori per confermare. Dopodiché clicco sul cubismo e voglio inserire due nodi cosiddetti nodi fratelli. Due esponenti principali del cubismo quali possono essere George Braque e Pablo Picasso. Bene clic sul cubismo. Vedete barra degli strumenti orizzontali in alto? Insert node. Clic. Pablo Picasso. Poi attenti bene a dove si clicca. Clicco su il cubismo nuovamente. Vado su insert node. Clic. E vado a digitare. George Braque. E poi un clic a vuoto per confermare. Eccoci qua. Dopodiché se voglio dettagliare alcune delle opere ad esempio di Picasso faccio un clic su Pablo Picasso e qui cosa inserirò? Non dei node ma dei sub node dei sotto nodi che potremmo anche chiamare i nodi figli. E allora quali due opere tra le tante potrei descrivere? Ad esempio Guernica e faccio un clic a vuoto dopo aver digitato. Torno su Pablo Picasso. Vado a digitare anzi a cliccare su insert sub node. Clic. Eccolo qui. Un nodo figlio ancora. Questa volta digito donna che piange. Devo dire che l'esempio di Picasso mi viene sempre in mente quando penso alle mappe. Sarà che mi aveva appassionato da studente e che per arte immagine insomma oppure per le discipline umanistiche ma anche per scienze sono veramente tanti gli ambiti in cui riesco ad essere efficace con le mappe non solo per gli alunni BES ma in realtà per tutti anche per gli adulti. Quindi faccio un clic a vuoto. Bene. Sarebbe interessante poter avere una immagine di Pablo Picasso. Sì. Gitmind mi permette anche di aggiungere immagini e links. Guardate. Faccio un clic su Pablo Picasso. Mi sposto in alto e vado sulla graffetta attachment. Gli allegati. Tra le opzioni scelgo insert image. Un clic. Poi un clic sul pulsante arancione select files from this device. In parole povere. Seleziona l'immagine dal tuo dispositivo avendola scaricata in precedenza. Click. Come nei migliori programmi di cucina ormai voi che mi seguite con affetto lo sapete ho preparato e ho già scaricato in precedenza un'immagine di Picasso. Eccola qui. Un clic è tratta da wikipedia l'enciclopedia libera. Poi un clic su apri. Ed in ultimo un clic su ok. Ed ecco la nostra immagine. È vero che a volte l'estetica conta relativamente ma è vero che una mappa anche graficamente accattivante è piacevole per noi che la costruiamo ma anche per i nostri destinatari e i nostri alunni che la vedranno. A questo punto già che ci siamo vi mostro anche che cliccando su George Brac e tenendo premuto il tasto sinistro tanto quanto su Pablo Picasso posso comodamente spostare come fossero degli elastici i nostri nodi. Veramente niente male. Allora vi ho parlato di link. Bene guardate un attimo adesso apri una nuova scheda del mio browser Google Chrome. Mi digito semplicemente Picasso. Dovrei fare un lavoro migliore di selezione delle fonti e di ricerca attiva delle fonti però prendo per ora per comodità la scheda tratta proprio da wikipedia l'enciclopedia libera. In alto clicco si seleziona l'url cioè l'indirizzo in blu. Clicco con il tasto destro poi con il tasto sinistro vado su copia. Torno con un clic sulla mia mappa il cubismo. Torno su Pablo Picasso. Clicco sulla mia graffetta attachment e vado a cliccare insert hyperlink. Ecco nella riga in alto andrò ad incollare l'indirizzo esatto che ho copiato prima. Tasto destro e poi tasto sinistro su incolla. Mentre in text opzionale inserisco un breve commento che compare quando questa etichetta compare quando io passo mi posiziono con il puntatore del mouse. Un effetto di rollover. Cioè l'overing vedete di cui parla lì è proprio la sovrapposizione del puntatore sulla voce. E allora io qui posso andare a indicare ad esempio la vita di Picasso. Osserviamo magari insomma gli spazi però vedete che in questo caso essendo una etichettina e non potendo digitare a lungo allora io ho ovviato utilizzando le maiuscole per separare le parole. Brevemente avrei potuto anche digitare biografia. Clicco su ok ed ecco qua guardate mappa, immagine, link. Adesso cerco di mostrarvelo, faccio un clic a vuoto piano piano, clicco, vedete che il clic ha immediatamente attivato l'interattività, cioè sono passato alla scheda che avevo scelto. Ecco vi dicevo prima che posizionandomi lentamente e lascio a voi insomma la prova perché in questo momento io sono con registrazione in corso. Posizionandoci piano piano sulla catena avremmo anche visto la piccola etichettina. Allora vi mostro che come in tutte le mappe io in realtà cliccando su Guernica ad esempio posso cliccare poi su icon pulsante barra degli strumenti a sinistra e contraddistinguere i nodi con delle icone che me li categorizzino assegnando le priorità, assegnando i progressi, mi piace molto questa funzione, assegnando delle bandiere, assegnando altri richiami. Allora mi piace ad esempio, vediamo un pochettino, se si parla di opere sarebbe interessante utilizzare, vediamo un po'. Dai annotiamole con priorità. Allora Guernica priorità 1, clicco su Donna che piange, poi clicco su 2, priorità 2. Ecco che vado a costruire veramente una mappa carina ma soprattutto che mi consenta di focalizzare l'attenzione sui temi principali. Comprimo il menu che non mi serve più con un clic sulla freccina e la mappa è sostanzialmente pronta. Vi mostro, ecco per i perfezionisti mostro che cliccando su un nodo e andando su Style io ho addirittura delle impostazioni Main Node e Node Selected dove posso andare a variare spaziature, la forma del nodo, l'opacità e il colore di sfondo, bordi, linee, cioè un sacco di dettagli, è molto molto interessante. Salvo automaticamente in Cloud su GitMind, quindi se ora si scaricasse la batteria di un computer portatile e mancasse l'alimentazione elettrica ad altro dispositivo, ritroverei il mio recent save delle 18 e 21. Come? Entrando di nuovo su GitMind. Dai è tempo di esportare. Cosa faccio? Clicco su Export, pulsante in alto a destra e scopro che posso esportare come? Come immagine in JPEG, come immagine in alta qualità in PNG, come PDF, poi francamente i documenti di test altri formati io li trascuro. Non sono peculiari delle mappe, ci complicano la vita. Io lascio selezionato PNG, poi clicco su Export. Qualche istante siamo pronti, vedete? Ho già la cartellina download indicata ma potrei cambiarla con un altro percorso a mia scelta. Un clic su Salva e la mappa è pronta. Chiudo con X questa finestra e prima di salutarvi vi mostro ancora questo tasto Share, condividi in alto a destra. Perché Share? Click. Perché scopriamo che io posso diffondere questa mappa anche tramite link. E addirittura, e questa cosa mi è piaciuta tanto perché mi piace il dettaglio e la cura nell'applicativo didattico, io posso farla visionare con password e addirittura con una validità temporale. Bravi, bravi sviluppatori di GitMind. Vi mostro ancora una cosa, insomma non finiamo mai di scoprire questa risorsa. Guardate in alto. cooperation. Si parla nella scuola di cooperative learning, apprendimento cooperativo, ed abbiamo questa icona con i due mezzi busti. A cosa servirà? Click. Perché io posso invitare dei collaboratori a lavorare sulla mia mappa. E come li invito? Li invito dando loro questo link e poi il codice, affinché loro siano editors, dunque collaboratori, o cliccando invite from email ed inserendo un indirizzo email e poi premendo invio sulla tastiera. Dunque, una risorsa completa, free, che non richiede alcuna installazione perché lo ricordo anche qui è web-based, beh dai, una chicca per il fine settimana. Lascio a voi la prova e la sperimentazione anche in classe, in DAD o in DD. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e vi aspetto come sempre nel prossimo videocorso, ringraziandovi, e lo faccio ogni volta, per l'affetto e la stima con cui mi seguite. Ciao!